Di fronte a situazioni di emergenza come quella vissuta dal comparto turistico per l'epidemia da coronavirus servono provvedimenti urgenti. A Salerno sei consiglieri comunali di maggioranza, Ventura, Stasi, D'Alessio, Petrone, Gallo e Naddeo, hanno chiesto al Comune di sospendere il nuovo regolamento, da poco approvato in Consiglio, che prevede la chiusura obbligatoria dei B&B in città per tre mesi all'anno. L'obiettivo è consentire alle attività ricettive di limitare i danni dal calo di presenza per via del Covid-19. Abbiamo immaginato di poter andare incontro alla categoria di chi gestisce i B&B per ovviare a questo contraccolpo economico, quindi per recuperare un po' queste prenotazioni vorremmo che passasse una deroga per il 2020, nel senso che i B&B non fossero poi tenuti alla chiusura per i 90 giorni, per il solo anno 2020. Ci sembra una piccola attenzione per dare una mano a chi è in difficoltà, a questi settori della nostra economia cittadina che vanno in difficoltà per questa emergenza coronavirus. Tutto qua. Intanto, in provincia Salerno, nuovo incontro coordinato dal prefetto per individuare percorsi comuni nel contrastare l'emergenza da coronavirus. Chiesti ai sindaci comportamenti coerenti con le disposizioni di regione campani e governo, senza fuga in avanti, mentre anche in costiera amalfitana e nel Cilento c'è preoccupazione per le prenotazioni turistiche dimezzate. Sicuramente un po' di disdette presi dal momento, ma legittimi da parte di tutti, insomma, sono arrivati, soprattutto per il mese di marzo, ma qualcuno anche per i mesi successivi. Ma questo non significa che non possono essere riempiti tra 15 giorni con una situazione più tranquilla e serena.